Quest'anno il concerto di Capodanno si terrà in Piazza del Comune e a salire sul palco saranno Ginevra di Marco e l'orchestra di Piazza Vittorio. È l'evento di Punta di Prato Festival presentato stamani dal Comune di Prato assieme agli altri 100 appuntamenti in cartellone tra musica, teatro, arte, cinema e iniziative per bambini. Tutto è ingresso libero a prezzi molto contenuti. L'orchestra di Piazza Vittorio sono 18 musicisti che rappresentano 11 paesi di tutto il mondo con una delle voci locali più belle, quella di Ginevra di Marco. Quindi questo è il nostro obiettivo, creare partecipazione di qualità anche a Capodanno. Un programma che non rinuncerà al tradizionale concerto della Camerata al Politeama per la notte di San Silvestro che quest'anno vedrà la partecipazione di tre tenori. Il passaggio dal 2015 al 2016 sarà accompagnato da un avvolgente aroma di caffè dal 29 al 31 dicembre. Sotto l'elogio del Comune sarà possibile degustare le migliori qualità provenienti da cinque continenti tostate in Italia grazie a Pausa Caffè Festival Winter Edition. Lasciamo la notte più lunga dell'anno e diamo un'occhiata al resto del programma. Il 20 dicembre alle 15, occhi puntati sul Castello dell'Imperatore che si trasformerà in un grandioso palcoscenico di teatro equestre barbarico grazie a Giovanni Lindo Ferretti e ai suoi cavalli. Recentemente, due giorni fa, anzi venerdì scorso, è stato premiato a New York il documentario che racconta la nascita di questo spettacolo. Ferretti si è innamorato del Castello dell'Imperatore quando è venuto a visitarlo e ha deciso che quello è il luogo adatto per questo spettacolo. Il 22 dicembre al Teatro Metastasio, omaggio a David Bowie di Andrea Chimenti, accompagnato dall'orchestra da camera I Nostri Tempi, mentre il 27 dicembre salirà su quello stesso palco il premio Tenco Mauro Ermanno Giovanardi che presenterà il nuovo album Il Mio Stile. Il 9 dicembre concerto in carcere per i gatti mezzi, mentre la sera precedente, l'8 dicembre, la chiesa di San Domenico farà da cornice al concerto di Natale della Camerata, con le voci bianche della Scuola di Musica Verdi e gli strumentisti della Prato Sinfonietta, l'orchestra dei ragazzi delle scuole media in dirizzo musicale.